salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come caricare uno shot su pc ovviamente per quelli che registrano fanno una clip su un gioco e vogliono caricare questa clip su youtube ovviamente una clip di pochi secondi 20 30 secondi per esempio io prendo questo video qua in orizzontale che sarebbe 16 noni e lo metto su youtube ma non me lo dà come video ok quindi i shots sono questi quindi i shots su pc vanno fatti noni sedicesimi quindi in questo caso vanno fatti non così in orizzontale ma tipo un rettangolo e con i bordi ok quindi vanno fatti così ok in questo modo vanno fatti quindi in questo caso prendiamo così una nostra clip per esempio questa e la vado a fare la vado a modificare su adobe premiere pro quindi in questo caso io uso il mio programma di editing quindi uso adobe premiere pro e vado un attimo a fare sulla sequenza tipo per esempio vado prima a mettere il video questo video qua quindi io prendo questa clip la metto sul mio programma di editing la metto nella timeline vado un attimo a modificare la sequenza per esempio io metto in questo modo tipo inverto così la risoluzione video tipo se il vostro video è 1280 per 720 mettete 720 qua e 1280 qua visto che il mio video è in hd 1920 per 1080 io inverto così la risoluzione e la faccio diventare noni sedicesimi e faccio ok e come puoi vedere eccolo qua questo è tipo uno shorts rettangolare poi io nel video faccio così ed ecco che diventa tipo uno shorts ok di pochi secondi quindi in questo caso io adesso vado ad esportare il video faccio file multimediale faccio esport ok ora il nostro shorts è pronto eccolo qua ora non mi resta che prendere questo video e caricarlo sul mio canale lo prendo lo metto qua come puoi vedere dice sempre che tu stia caricando uno shorts anche se non scrivo per esempio questo è il gioco lords of fallen senza che scrivo shorts perché molti dicono metti i shorts e ti esce come shorts il video invece già youtube dice sempre che tu stai caricando tutti gli shorts vengono automaticamente considerati per la condivisione dell'entrata e pubblicità comunque questo è lo shorts questo qua metto gli hashtag metto quello che devo mettere eccolo qua idonei da annunci elementi video aggiungi un video correlato quindi un video che sembra questo qua lo shorts tipo un continuo io per esempio prendo un video qualsiasi di lords of fallen questo qua mi raccomando il video deve durare massimo 60 secondi se dura più di 60 secondi te lo mette come video non te lo mette come shorts ok quindi la durata è di 60 secondi massimo 60 secondi come puoi vedere se c'è questo quadratino con questo simbolo rosso dentro è uno shorts ok quindi abbiamo creato caricato modificato anche uno shorts su youtube così si fanno su pc sul telefono invece è molto semplice tu per esempio registri con il tuo telefono ecco il tuo video e lo puoi caricare direttamente da telefono su youtube invece qua è tutto diverso su pc quindi se hai problemi commenta se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao